Un profilo fake si finge la stella del calcio italiano Roberto Baggio e cerca di ottenere dall'associazione di volontariato Admo Veneto un pagamento di 7.000 euro per la presenza all'evento di sensibilizzazione e tipizzazione di Admo Veneto, che si interrapporge oggi in Piazza Libertà, Bassano del Graff, a 3 ore 14.30. Ha dell'incredibile quanto messo in atto da alcuni truffatori del web ai danni dell'associazione impugnata in un così delicato ambito socio-sanitario. Tutto accade e qualche giorno fa in occasione del Match for Life la prima campagna di azione Admo di informazione e sensibilizzazione che ha visto l'associazione di tutta Italia come un unico scopo di iscrivere nuovi potenziali donatori per offrire una speranza di vita a tutti i pazienti in attesa di trapianto. L'appuntamento per il Vicentino è Bassano di Graff dove per tutto il pomeriggio i volontari Admo incontreranno potenziali donatori di midollo osseo. Una tuffa sventata grazie alla prontezza di volontari e della presidenza regionale con segnalazione fatta alla Polizia Postale e Admo che sarà regolarmente in piazza, benché senza la presenza di Roberto Baggio. Infatti i volontari dell'associazione avevano in cantiere una sorpresa in occasione del pomeriggio del 10 giugno. Si erano impegnati a cercare i contatti e invitare l'ex cancellatore Roberto Baggio per ritrarre le più persone possibili e avvicinare la causa benedica, ma incappano però in un profilo fake con cui il vero Roberto Baggio non ha nulla a che fare e quindi è un tentativo di truffa.